Adesso è un sito. Chiudete il tavolino. Posizionate lo schienale della poltrona verticalmente, prima del decollo e dell'atterraggio. Make sure that the seat back is in the upright position for take off and landing. In caso di depressurizzazione, le maschere per l'ossigeno si renderanno automaticamente disponibili. Prendete una maschera ed attivatela, tirandola verso di voi. Coprite naso e bocca. Regolatela. E respirate enormemente. Indossate prima la vostra maschera, poi aiutate coloro che necessitano della vostra assistenza. In caso di perdita di pressione, le maschere per l'ossigeno si sono rilassate. Prendete una maschera verso te. Coppa la mano e la mano. E rilassate. Prendete la maschera prima. Prendete la maschera. Prendete la maschera che mette la vostra assistenza. Tutte le uscite di emergenza di questo aereo sono indicate da appositi segnali. Individuate quelle più vicino a voi. Locate the emergency exits nearest to you. Un sentiero luminoso faciliterà il raggiungimento delle uscite. An illuminated escape path marking will help you to reach the exits. In caso di rapido abbandono dell'aereo, lasciate a bordo il bagaglio a mano. Togliete le scarpe con i tacchi alti. Scendete tramite gli appositi scivoli e allontanatevi subito dall'aereo. Leave the aircraft through the evacuation slides and move quickly away from the aircraft. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra controlla. Your life vest is located under your seat. In caso di necessità, indossatelo. Gonfiatelo tirando le apposite maniglie rosse solo al momento di abbandonare l'aereo. Se necessario, soffiate nei tumi di gomma. Inflate the vest on living the aircraft. Saranno distribuiti i salvagente per bambini, che dovranno essere gonfiati prima di abbandonare l'aereo. Infant life vest will be distributed and must be inflated inside the aircraft. For further information, please read carefully the safety instructions card placed in the seat pocket in front of you. Your move is perfectly trained to carry out an emergency procedure.